Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Continua il lavoro delle forze dell'ordine della provincia di Avellino per il contrasto al fenomeno del lavoro nero. Nel corso delle attività sono state sottoposte a controllo 5 aziende, tutte risultate irregolari. Sono stati controllati 232 lavoratori, tutti risultati irregolari e utilizzati da una nota impresa di autotrasporti della provincia di Avellino. Sono state elevate 11 sanzioni amministrative per un importo totale di 200 mila euro. È stato anche accertato l'omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali su un imponibile calcolo pari a 2 milioni e 324 mila euro, oltre a 7 erogazioni indebitamente percepite per un complessivo danno patito dall'Inps di euro 32 mila. A conclusione della complessa e articolata attività di indagini avviata su input del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, collaborati dai militari dell'arma territoriale della provincia, hanno deferito in stato di libertà 8 persone, di cui 7 di nazionalità romena, ritenuti responsabili dei reati di truffa e danni dell'Inps, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici determinata dall'inganno altrui, e resisi inoltre responsabili di numerose violazioni in materia di lavoro, per aver inviato e utilizzato lavoratori di nazionalità romera in regime di distacco trasnazionale, non ritenuto autentico e per non aver conservato entro due anni dalla fine del distacco i documenti di lavoro previsti.